In palio c'è l'accesso alla fase nazionale degli spareggi per la promozione in Serie D. La Folger attaccherà in questa prima frazione di gara da sinistra verso destra dei vostri teleschermi. È cominciata adesso la partita, il pallone per Erbini che si gira, il tocco per Comegna, il cross in area di rigore per secano, tutto solo il gol ma c'è la bandierina alzata. Intanto ancora il lancio di Comegna per Cammarieri di prima intenzione lì dietro, per Accetta il tiro, respinge la difesa della Rivera Marmi e poi Comegna a rimorchio. Intanto ancora la Folger e le cross di Galfano, la deviazione di testa da parte di Monforte e poi Erbini. Mario Erbini di prima intenzione per Accetta, poi Bono, Bono che finisce a terra, è sembrato un calcio di rigore nettissimo. Attenzione al cross, la spizzata all'interno dell'area di rigore, Convitto che finisce a terra e arriva il calcio di rigore. La rincorsa di Riccobono, il tiro, il pallone che si inzacca alle spalle di Iacono che aveva indovinato l'angolino. Arriva il fisco del direttore di gara, la rincorsa, il tiro, pallone che arriva l'MLM però tra le braccia di Pietro Iacono. Nessun problema per l'estremo difensore della Folgore che prova a trasformare in azione offensiva. Secan all'interno dell'area di rigore, il tiro e il gol di Secan. Trentatreesimo minuto di gioco, pareggia la Folgore. Il controllo, il cross in area di rigore, la spizzata di Bono. Non è però ancora finita l'azione, Secan il tiro, la deviazione. Lancio per Erbini che prova a superare l'Oiacono, ci mette le mani il portiere. Il controllo da parte di Erbini che entra in area di rigore, ancora Erbini. Erbini il tiro, pallone ribattuto però da Monforte. Tiro dalla bandierina, la rincorsa, il cross tutto solo. Accetta, salvataggio sulla linea da parte di Lamia. Poi la conclusione di Lombardo, ma ancora la Folgore che insiste con Bono. Il colpo di testa in chiusura e arriva adesso il duplice fischio da parte del direttore di gara. Ancora la Folgore con Bono, tocco filtrante per Erbini. E il gol del vantaggio della Folgore al terzo minuto della ripresa. Il fischio del direttore di gara, il tiro direttamente verso la porta di Comegna. Ripartire in contropiede, Bono lancio sulla destra. Bono per Erbini che accelera, entra in area di rigore davanti il portiere, il tiro. E la grande parata di Lo Iacono. Il fischio, il cross in area di rigore, esce Iacono. Attenzione alla ribattuta, il tiro. All'appoggio per Galfano, adesso Bono di prima per Erbini che prova ad arrivare su questo pallone. Ferma la corsa, finisce a terra e arriva il calcio di rigore. Calcio di rigore per la Folgore. Il fischio del direttore di gara, la rincorsa, il tiro. E la grande parata di Lo Iacono. Il fischio, Comegna. Il tiro direttamente verso la porta. Folgore 2, rivela Marmi 1. Attenzione intanto a Manfra, il tiro. Dal limite d'aria. Comegna, tocco per Erbini. Non c'è fuorigioco. Erbini arriva sul pallone, si libera di un avversario. Entra nella ruota di rigore, il tiro di Erbini, è il gol. È il gol, è il gol. 3 a 1 di Erbini. Il fischio, Lamia, la battuta. Il pallone deviato. Servizio centrale per Guayana. Che salta un avversario. Guayana, il tiro. È il gol dalla Rivera Marmi. Incredibile partita che non smette di regalare emozioni. Arriva adesso il triplice fischio finale. La Folgore batte 3 a 2 la Rivera Marmi. Grazie.